L'Aggiunta Comunale di Benevento ha approvato il progetto di riqualificazione del rione Pacevecchia per un importo di oltre 3 milioni e 500 mila euro. In seguito a tale approvazione il Comitato di Quartiere Santa Maria della Pace in una nota esprime soddisfazione perché finalmente sono state recepite tutte le istanze sollevate spesso dal Comitato. E' precisa che l'approvazione di un progetto è solo la prima fase di un lungo percorso su cui sarà attivata una speciale osservazione per verificare costantemente quello che viene realizzato con quanto programmato. L'auspicio del Comitato è che sia veloce l'avvio dei tempi per l'apertura dei cantiere e dei lavori, scongiurando che tale inizio non sia in prossimità delle prossime elezioni comunali, come già è accaduto in passato in sede di intervento di riqualificazione della città. Il Comitato di Quartiere Santa Maria della Pace, ricordiamo nel corso degli ultimi anni, ha denunciato molto spesso alcuni problemi che attanaiano il rione e ha chiesto di intervenire per la manutenzione del verde e dei marciapiedi, per il potenziamento del trasporto pubblico, della segnaletica stradale, dell'illuminazione e anche una maggiore sicurezza pubblica con la presenza stabile di un vigile di quartiere, come previsto dalla normativa vigente. Proprio di recente il Comitato si chiedeva dove erano finiti i soldi stanziati dalla regione Campania per la riqualificazione urbana del rione Pacevecchia.